Premio al giornalismo, intanto che cosa significa per te, che cosa rappresenta Dundar per te questo premio stasera? Posso dire soltanto una bellissima esperienza, una bellissima serata, un giornalista come me che è lavorato veramente tanto, costruito da solo, investito da solo, realizzato da solo e questo è un premio, per me è un grande onore perché un riconoscimento come una ciliegina di una buona torta che ha fatto, la mettiamo questa ciliegina in sopra che diventa più elegante. Questi premi sono fatti anche per dare un riconoscimento ai personaggi che erano stasera attori, cantanti, giornalisti, le cose. Io devo confessare, sono molto onorato perché ho quasi 25 anni di carriera in giornalismo, ricevo terzo premio, uno Palma d'Oro Istanbul recentemente, uno di Free Time, uno di stasera. Comunque è un modo di riconoscimento che mi hanno voluto dare, io ringrazio gli organizzatori perché è un modo di ringraziare e riconoscere il nostro lavoro che noi svolgiamo professionalmente. Io mi sempre, mio parere, fino a questo momento colleghi, amici, persone, chi mi conosce, ho sempre avuto ottimo riscontro e questo mi fa onorare già per me un premio. Che bellissimo! Con questo ho fatto... Hai fatto trissima! No veramente, sono molto sincero. Ma ce ne saranno altri Dundar? Beh, ci saranno... Spero che sì, non lo so. Io te lo auguro. Ci auguriamo, però... Adesso ti chiedo, sei recentemente tornato da Istanbul e tu spesso vai e vieni a questo ponte meraviglioso, ideale, non solo, anche materiale tra Italia e Istanbul. Allora, dimmi, a che cosa è dovuto anche questo tuo ormai apparire come opinion leader su varie emittenti televisive? Ti piace? Beh, io da anni lavoro in media. Anche come opinionista proprio? Opinionista? Beh, io ho dieci anni lavorato in Rai, ho avuto diverse opportunità di commentare una mattina. Ho fatto diversi servizi della Sette, speciale, penso a due viaggi di Papa in Turchia, ho coordinato io a tutti i colleghi di Rai. Poi io sono anche presidente dell'associazione Gionistro Mediterraneo, quindi argomenti riguardo a Turchia e Mediterraneo con l'area, con Europa. Probabile che io ho cominciato ad andare a Sky come opinionista dei primi anni, dopo Rai. E quindi colleghi, amici, direttori che seguite forse, è perché io quando vado a commentare, a Nisare, non sono mai di parte. Nessuno parte da qua, do notizie, analizzo in maniera pulita e corretta, quindi è probabile fiducia che ho creato, confronto colleghi, direttori, amici che ogni volta sia TG con 24 che sia, chiamano a me anche quando sto in Turchia. Quindi questa mostra, per me un premio che fiducia che ho creato, ogni circostanza, quando posso, analizzo io, ma quando non posso, loro non chiamano nessuno. Splendido, quindi meritatissimo premio e ad Maiora. Grazie Tunder, grazie. Grazie a tutti.